LULU ASMR RELAX Ciao cara, benvenuta nella mia spa qui potrai rilassarti e non pensare a nulla per qualche minuto oggi ti spazzolerò i capelli e poi ti farò un massaggio sia al viso sia al cuoio capelluto cominciamo subito, tu rilassati eh, ti raccomando e poi ti raccomando e poi ti raccomando e poi ci raccomando Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.